Qua invece ci troviamo di fronte a tutt'altro stile pittorico Certo C'è da dire una cosa in maniera preliminare Che questo quadro va visto Beh, da vicino Perché soltanto un cretino si allontanerebbe per vedere questo quadro Qual è la prima cosa che tu diresti osservando questo quadro? Che è monocromatico Beh, no Monocromatico? No, ci sono tutti i colori C'è tutta la tavolozza dei colori Tutte le nuance pastello Sì, ma dico, ogni colore è monocromatico a se stesso Secondo te a quale stile pittorico appartiene? Cubista Ma no, ma è realista Le case sono cubiste per antonomasia Ma perché usi parole che non conosci nemmeno significato? Parla come mangi, scusa Questo è bello Nella sua semplicità Questo è ipo realista Se me lo concedi monocromatico Ma va a fanculo E allora fallo tu signor Nooo 170 milioni per sta merdina qua Guarda che il mio falegname con 30 mila lire la fa meglio Cosa ne dite? Che qualche deficiente l'ha rovinato con un taglierino Si vede, porca...